Noto per le sue proteste e le sue battaglie, l'imprenditore vastese Massimo Tomeo domani incontrerà la stampa nel capologo di Regione, per dire la sua sul caso del Denino Morandi, le scuole sul Monese sequestrate dalla Guardia di Finanza per lavori sbagliati post-sisma. Una storia già conosciuta, quella di Tomeo, che ormai è agli onori della cronaca. Più volte, sul finire del 2013, aveva compiuto gesti eclatanti di protesta, fino a barricarsi nell'ufficio del presidente della provincia dell'Aquila, Antonio del Corvo, per protestare per i mancati pagamenti da parte dell'ATFIN Cosman, di prestazioni seguite dalla sua impresa, la MCRSRL, subappaltatrice nei lavori di messa in sicurezza del plesso Denino Morandi. Anche grazie alle denunce presentate dal Tomeo, a gennaio 2014, la Guardia di Finanza dell'Aquila aveva eseguito il sequestro, per equivalente di 250.000 euro, nei confronti della società FIN, Fubel Infrastrutture SRL, capogruppo dell'ATIA, giudicataria dell'Appalto, per la messa in sicurezza della scuola. Per un attimo Tomeo è uscito di scena, nulla infatti dichiarato dopo il nuovo sequestro della Guardia di Finanza, quello del 17 ottobre scorso, che ha portato alla chiusura dell'edificio scolastico sul Monese, e al trasferimento degli studenti all'ITIS di Pratola Perigna. Ma ora, che cosa vorrà dire di nuovo Tomeo? Tomeo Tomeo Tomeo